Siete quelli che hanno costruito il gol, tu gli hai dato la palla, lui che l'ha buttato dentro. Guarda, sono davvero felice per lui perché è un bravissimo ragazzo, è un ragazzo che lavora seriamente, è un ragazzo, non ti abituare, è un ragazzo che comunque si impegna, che ha messo sempre il massimo, che tante volte è stato messo in discussione, però credo che i frutti poi si vedano. Quindi è entrato 10 minuti, un quarto d'ora, non lo so di preciso, ha lottato su tutti i palloni e poi anche a noi ci ha ribagato perché credo che oggi si sia visto un Vicenza superiore al Pordenone, non meritavamo di perdere, cioè non meritavamo di pareggiare, figuriamoci di perdere, però nel contesto siamo contenti per la prestazione, un po' meno per il risultato perché comunque credo che questo Vicenza oggi meritava di più. Nell'azione del gol, ne parlavamo prima con un maestrallo, avete battuto a sorpresa e li avete uccellati, come si suol dire, li siete stati molto bravi voi, un po' ingenui loro, ma come dicevi tu, è stata fatta giustizia in campo perché il Pordenone non avrebbe meritato di vincere. Diciamo che siamo stati furbi perché quello è vero, loro su quella situazione là, diciamo, tra virgolette hanno un po' dormito, come si dice. Io volevo metterla in mezzo, Ale mi ha detto guarda te la stop e te la do, vediamo se è buona, lui l'ha stoppata, l'ha messa per terra, abbiamo calciato subito e poi quando sono andato a metterla in mezzo sono sincero, ho visto una marea di maglie verde e nere, ho detto la metto davanti a tutti sperando che qualcuno ci sia dall'altra parte. E' arrivato Tommy e credo che sia giusto premio per questi 95 passaminuti fatti di grande grinta, di grande lotta, di grande voglia di vincere, però purtroppo il risultato e quel saltino che meritiamo di fare non è arrivato nemmeno oggi, però ci prendiamo la prestazione e fra tre giorni si rigioca. E' già tempo di cancellare questa partita per poi pensare all'altra. Ci diciamo che c'è, è davanti di fronte anche a un Pordenone che magari non sarà bellissimo da vedere ma è una squadra tosta, solida, che anche oggi ha confermato il perché in trasferta non ha mai perso. Una squadra forte che meritatamente prima in classifica per continuità di risultati, però ripeto, non credo che abbia giocato male il Pordenone, credo che ci sia stato un gran bel Vicenza che oggi ha battagliato su ogni palla e io continuo a dire perché ero incavolato dopo il gol preso soprattutto per quello che stavamo facendo perché non meritavamo, forse nel momento dove dovevamo spingere perché comunque avevamo rifiatato quei 5-10 minuti il secondo tempo, dopo un primo tempo secondo me è andato a mille e abbiamo preso il gol su quel calcio piazzato, però il calcio è questo quindi ci siamo rimboccati le maniche ci abbiamo creduto ed è il giusto premio che abbiamo ottenuto per poi dare continuità a questi risultati che credo sia la cosa più importante. Personalmente ti manca il gol ma la gamba cresce, stai meglio, cresci di condizione, è tornato Cinelli e con Martin cominci un po', non è Delia ma insomma è troppo poco tempo, però insomma diciamo che quella fascia si cominciano a vedere delle giocate interessanti. Guarda, sono sincero, il gol manca, il gol manca perché c'eravamo abituati tutti un po' troppo bene io per primo però devo continuare a lavorare come sto facendo perché credo sia sabato scorso che oggi ho dato la giusta voglia e grinta che serviva la squadra. Per quanto riguarda quella fascia là credo che abbia fatto un grande primo tempo la corsia di Mancina e abbiamo creato tanto. Io con Cine mi conosco a memoria, so i movimenti, Marco si sta inserendo secondo me molto bene secondo me anche lui è un'altra grandissima persona prima di tutto e un fortissimo giocatore quindi pian piano cresceremo anche sotto il punto di vista del gioco e oggi si è visto credo. Poi il gol sono convinto che arriverà, più ci penso tanto e meno arriva quindi devo continuare a lavorare devo continuare a provarci, sabato ho avuto due o tre occasioni, oggi ne ho avuto una nel secondo tempo quando ho calciato a giro però devo continuare a lavorare duramente come sto facendo perché la gamba c'è e credo che quella sia la cosa più importante. Il martedì c'è il Monza che diciamo che è l'andata, è stato una perla straordinaria poi anche il secondo gol non era niente male per cui magari rivedendo quelle maglie Sì sì, speriamo che sia la giusta partita per tornare a far gol l'andata è stata una partita perfetta, credo forse una delle più belle viste quest'anno al ritorno sarà tutta un'altra storia, loro sono forti, oggi hanno perso a Trieste quindi saranno ancora più incazzati e noi andremo lì ancora più incazzati loro per cercare di portare a casa i tre punti perché sono convinto che questa squadra è capace anche di vincere a Monza. Bene, ringraziamo anche...